Il mare però non è solo Porto e Porto Vecchio, meglio ci sono anche altri tipi di Porto. In una campagna elettorale dove tanti parlano di Porto Vecchio, Porto Nuovo, Punto Franco e quant'altro De Gioia è l'unico che sta affrontando il tema di che cosa si può fare anche nell'immediato e parliamo di nautica e quant'altro. Il mare è una grande opportunità, il mare ha segnato la storia di questa città, il mare può anche segnare il futuro. Quindi al di là dei grandi temi del mare di Trieste e quindi del suo Porto, ci sono tutta una serie di situazioni legate al mare che sono interessanti e che offrono grandi opportunità. Io per esempio sono sempre stato convinto che Trieste potrebbe, ha tutte le caratteristiche, le capacità, le potenzialità per diventare la capitale della nautica in Adriatico, anche perché il suo bacino d'utenza è tutto nel centro Europa e tutta l'Europa dell'Est e l'opportunità di scendere per la costa Adriatica e anche per quella slovena e croata dove ci sono delle bellezze naturalistiche ma dall'altra parte della parte italiana sul piano culturale, storico, artistico, enogastronomico non ci basta nessuno. Io credo che da qui potrebbe partire un turismo nautico eccezionale e noi diventare la capitale. Così come vanno utilizzate e sfruttate tutte le altre capacità offerte dal mare che sono quelle legate alla pesca, al pescaturismo, all'opportunità poi di un collegamento a via mare con tutta la nostra costa triestina dove vediamo che i parcheggi sulla costiera a volte in piena estate sono pericolosi oltre ad essere ovviamente d'intralcio e quindi un collegamento a via mare lungo la costa offrirebbe l'opportunità per i triestini di andare al mare ma anche ai turisti di godare della bellezza che va da Trieste fino a Porto Piccolo e se vogliamo anche avanti. Così come ci sono la capacità di quello che è il mercato itico che è ben sfruttato sulla nostra costa ma sul quale ovviamente va anche in contrasto con quello che è la tutela dell'ambiente perché mare significa anche tutela dell'ambiente marino significa anche tutela di questo patrimonio, significa anche stare attenti che ovviamente questo mare non venga sciupato, non venga sporcato soprattutto ma si mantenga pulito come adesso in questo momento di cui noi veniamo vanto perché chi va lungo la costa triestina vede la differenza che c'è tra oggi e il passato dove l'acqua è sicuramente più pulita e dove questa è una ricchezza e una risorsa per la città.